Waihei Kouji, benvenuti da vostro androle di Cronatuno su Yo-Kai Watch Puni Puni Questo video sarà un pochino scarno quindi leggermente più corto perché non ho contenuti da mostrarvi L'unica vera cosa che ho fatto, la più importante se vogliamo, è stato slottare una multisummon e prendere Kyuubi SS Kyuubi risvegliato è l'unico Yo-Kai buono che veramente posso dire è buono per questo evento C'è anche Kirakoma che ti aiuta, ti aiutano tanti Yo-Kai, tipo i tre Yo-Kai che vedete qui in squadra Questi tre ti aiutano molto nell'evento, certo ci sarebbero anche altri Yo-Kai Però non voglio assolutamente fare altri multisummon perché c'è roba che non mi interessa I Yo-Kai che capitano nella slot non mi interessano, può capitare un Gilgador SSS ma non lo voglio Non saprei che farmene poi, è forte sì ma l'utilità non la vedo da nessuna parte Magari con qualche futuro evento, magari con qualche prossima boss battle ma sinceramente non ce lo vedo E non mi interessa neanche come Yo-Kai quindi per il momento punto solo a fare i punti qui sull'evento Per punti non intendo solo le multisummon ma intendo i punti, questi punti Ora la classifica non mi interessa, il problema è che se non riesco a fare abbastanza punti mi ritrovo qui Ieri sera mi sono sbudellato per arrivare tra i primi 1000 e oggi mi ritrovo tra i primi 5000 Sinceramente è una cosa debilitante perché poi ho visto che devo fare altri 16000 punti per tornare Tra 1000 e 1 e 2000 e non c'ho voglia, ieri sera ci ho perso 3 ore per arrivare qua e niente Non ce l'ho fatta, quindi penso proprio che per questa volta l'evento per me può anche considerarsi concluso Farò ancora qualche ride nelle aree nemiche, prenderò qualche punto extra e ok così Ora invece oltre alla slottata che avete visto andiamo a fare un po' di slottate normali Voglio riuscire a trovare qualcosina, magari anche di interessante Un altro paio di slottate arriviamo almeno a 52000, vediamo un po', voglio fare un po' di slottate così tanto per Attenzione! Ah, Comasan, Comagiro S È il primo che trovo Ah, bene bene, vai ad aggiungerti al medaglio, bravo Oh, Jibakoma Dark Nyan Oh, il mio secondo yokai preferito Beh, il primo è in grafica, il mio yokai preferito C'ho 10267 Ascoltami bene, gioco, ne faccio solo una, però fammi uscire qualcosa di bello, per favore Tante volte mi sono usciti yokai stupendi, però questa volta davvero Ad ogni modo, questa slottata è andata malissimo Ma nel prossimo video, non so cosa farò, ma qualcosa lo farò Forse la battaglia non contro di te, ma contro di te, carino mio Facciamo così, ci provo a portarla, provo a sconfiggerla in vari modi L'unica buona la carico, se ci riesco, anche perché mi sa che non ci riesco Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye Ciao 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 Grazie.